Beatriz di Uomini e Donne, l'annuncio inaspettato. Nei giorni scorsi abbiamo parlato più volte dell'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatrice di Brando e Fricchian, che poi ha preferito Raffaella Scuotto. Dopo il programma aveva trovato l'amore con un ragazzo toscano. Guardando la sua foto c'era chi aveva commentato «Ti è andata di lusso, molto più bello di Brando». Poi si è scoperto che quel ragazzo era Bernardo Vegni. La notizia è uscita fuori in modo graduale grazie alle sue frequenti visite a Siena e le storie condivise sui social che li ritraggono negli stessi luoghi. Beatriz, poi, era stata invitata alla festa di laurea di un amico del giovane. Successivamente la venticinquenne milanese ha deciso di uscire allo scoperto, redendo pubblico il suo fidanzamento. Tuttavia, nelle ultime ore è cambiato tutto. Sono in tanti a rispondere alle domande dei follower sui social e stavolta è toccato a Beatriz Dorsey fare un po' di chiarezza sul suo stato sentimentale. Ebbene, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sorpreso tutti rispondendo a chi le chiedeva se fosse fidanzata o meno. Lei ha dichiarato «Rispondo a tutti. Sono single e nessuna frequentazione al momento. Insomma, non c'è nessun fidanzato che sia già finita con Bernardo?». Intanto, nelle ultime ore, Beatriz era stata al centro di alcune polemiche. C'è stato infatti chi la ha criticata per l'eccessiva magrezza, parlando addirittura di anoressia. Lei così si è sfogata. «Non pensavo di dover fare un video del genere, ma eccomi qua. Come sia possibile che dopo tanti anni di lotta al body shaming, di lotte per accettare la propria taglia, ancora ci siano certi commenti?». Ciò che mi fa ribrezzo, le parole di Beatriz, è che molte sono donne che potrebbero essere mia madre, mia nonna, che si permettono di dire delle cose sconsiderate sulla costituzione di una persona. E poi ha proseguito. «Ma secondo quali criteri dite una cosa del genere? Solo dottori e psicologi hanno il diritto di poter dare giudizi di questo tipo, ma tutto il resto è semplicemente body shaming».